Quest'opera di Piero Dorazio, intitolata Alea Parallela, è un olio su tela che misura 60x90 centimetri, eseguito nel 1965. Opera questa di Piero Dorazio molto importante, storica e molto rara, tanto da avere un ricco curriculum espositivo e di pubblicazioni d'epoca. Sottolineiamo infatti che l'opera è pubblicata nel catalogo ragionato di Piero Dorazio a cura di Marisa Volpi Orlandini, edito da Alfieri, Venezia, nel 1977 al numero 842. Inoltre l'opera è pubblicata nel catalogo della mostra che tenne la galleria Im Erker di San Gallo in Svizzera nel 1966, galleria questa con la quale Dorazio collaborò soprattutto in quegli anni e che realizzò un sodalizio di lavoro con Giuseppe Ungaretti al volume La Luce, che raccolse 20 poesie dell'Ungaretti stesso con 14 grandi litografie del maestro Dorazio a illustrare le opere letterarie dell'Ungaretti. L'opera inoltre è stata esposta lo stesso anno, quindi sempre nel 1966, a Lausanna, presso la galleria Bounier. Ancora l'anno successivo, nel 1967, l'opera è stata esposta e pubblicata ai Musée des Beaux-Arts, a la Chaux-de-Fonds, questo nel 1967, e ancora in quell'anno è stata esposta a Stoccolma presso la Svensk-Franska Kostgalleriet. Sul retro dell'opera possiamo osservare le relative etichette della Galleria Bounier di Lausanna e della Svensk-Franska Kostgalleriet di Stoccolma. Opera quindi molto importante, ricordando e sottolineando che il 1965, anno dell'opera, è la stessa data in cui Dorazio ha partecipato alla mostra The Responsive Eye al MoMA, al Museo d'arte moderna di New York. L'anno successivo, Dorazio, nel 1966, si presentò per una seconda mostra personale alla Biennale di Venezia, dove presentò proprio questo tipo di opere, cioè queste tele monocrome ricoperte da termini lineari che lo avvicinavano al minimalismo americano. Dorazio sta avendo in questo momento sul mercato una forte rivalutazione e un forte aumento di richieste sulle opere storiche e così datate. Questa certamente è una di quelle. L'opera è disponibile a trattativa privata nella nostra nuova asta 46. Chi interessato ci contatti.